Noi siamo in Piacciani, a numero 13, a casa di Mina, che vedrai sta su, ora si mette giù nello studio di registrazione, si mette un pacchettino, si il cd, l'unico cd che avevo lo do a Mina, magari porta bene, si lo butto nella cassetta, va bene, vai, mandagli un bacino, c'è un sacco di posti, speriamo, tu non l'ascolti, vediamo, vai, vediamo, vai, andiamo perché chiama la Sirius, si, 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 si si, 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 si,